C'è un'azienda retina che si è adattata al clima del momento e ha immesso nel mercato dei prodotti manufatturieri utili alla causa contro il Covid-19. Imprese al tempo del coronavirus, la Saima di Arezzo, una grande azienda, è sempre all'avanguardia. Tra l'altro sta progettando, sta brevettando le porte anticontagio. Di che cosa si tratta Ingegner Moretti? Abbiamo studiato come poter accedere agli ambienti in sicurezza, quindi integrato le tecnologie termometriche e di conteggio persone all'interno delle nostre porte oppure abbiamo sviluppato e brevettato dei tornelli particolari che sono dei kit applicabili a qualsiasi porta abbattente o scorrevole di qualsiasi esercizio commerciale e permettono sia la misurazione della febbre e quindi nel caso in cui una persona abbia la febbre non può entrare all'interno dell'ambiente sia contiamo e quindi permettiamo di aiutare a contingentare le persone all'interno di un esercizio commerciale automaticamente senza l'intervento umano. Questa variabile da non trascurare vi ha permesso di restare in produzione anche rispetto ai parametri dei codici Ateco? Abbiamo avuto l'autorizzazione prefettizia a lavorare non solo in virtù di questi nuovi prodotti che stiamo sviluppando però perché siamo un'azienda indispensabile per il funzionamento di uffici postali, aeroporti, metropolitane, banche. Dopo il 4 maggio cosa e come cambierà il vostro modo di produrre? Sicuramente ci stiamo strutturando e organizzando nell'intensificare e nell'aumentare la nostra produzione perché ci aspettiamo e speriamo di avere un incremento negli ordinativi grazie anche a questi nuovi prodotti. Sicuramente rimarrà un uso di smart working anche in futuro pensiamo perché abbiamo riscoperto dei nuovi modi di lavorare, distanziamento all'interno dell'azienda ci saranno anche delle difficoltà, vedi le mense, in questo momento lo spogliatoi li abbiamo chiusi quindi un domani finito questo problema li dovremmo riaprire ma dovremo adottare tutte le disposizioni di sicurezza per i nostri lavoratori perché noi teniamo molto alla salute dei nostri lavoratori.